Ciao a tutti ragazzi e bene ritrovati, ringraziamo subito Orzli che ci ha mandato questa cover per Samsung Galaxy Note 5 Andiamo quindi a vedere che tipo di cover è e come si comporta sul nostro dispositivo All'interno troviamo la nostra cover con questo aggeggino che serve per pulire la pelle In realtà non so a cosa serva Comunque abbiamo una cover a flip, wallet anche come potete vedere Più comoda secondo me per un utilizzo femminile che magari possono andare a rimuovere il portafoglio Utilizzando questo portatessere e mettendo i soldi sul lato di questa cover o qualche tipo di foglietto E poi abbiamo questo inserto in plastica morbida dove potremo andare ad alloggiare il nostro dispositivo E andare quindi ad incastrarlo all'interno della nostra cover Abbiamo poi una chiusura magnetica in modo che non penzoli in giro il nostro cordino La fotocamera come potete vedere rimane libera così come anche il sotto Il lato invece viene protetto tranne il pulsante power che rimane comunque utilizzabile E anche la parte sinistra completamente protetta tranne il pulsante volume Parte alta invece completamente libera Abbiamo poi la possibilità di utilizzarlo anche come stand Quindi potremo andare ad alloggiare il nostro dispositivo in questo modo Per poter vedere video o magari anche per utilizzare il pennino per fare un disegno O qualsiasi altro tipo di cosa che si può fare con un display messo in modo laterale In questo modo Il dispositivo devo dire si utilizza veramente molto bene Purtroppo non abbiamo la fessura per poter rispondere direttamente alle chiamate Utilizzando anche la cover chiusa ma dovremo andare a girarla sul retro E questa cosa è l'unica cosa che trovo molto scomoda per questo genere di cover Nel complesso però devo dire che la qualità costruttiva, la pelle Che ha anche un buonissimo profumo di pelle È realizzata veramente molto bene Le cuciture sono veramente ottime I tagli per la fotocamera, per i pulsanti sono veramente perfetti Lascia accessibili tutti gli ingressi jack audio, micro usb E anche l'estrazione della penna rimane veramente ottima L'apertura e la chiusura è quello che trovo leggermente scomodo Il magnete non è molto potente Quindi probabilmente nell'utilizzo perderà un po' questa capacità di incollarsi alla perfezione Trovo veramente comodo invece il fatto di alloggiare nella parte flip laterale La possibilità di utilizzarlo come portafoglio E quindi utilizzare il telefono anche come porta documenti, portafoglio, portasoldi in generale E quant'altro Trovo molto comodo il fatto che si possa utilizzare in landscape in questo modo Per vedere un film o per utilizzare il penino per scarabocchiare Trovo scomodo il fatto che per poter chiamare dovremmo girare la cover in questo modo E tenerlo in mano in questo modo risulterà leggermente scomodo Tuttavia la qualità costruttiva è veramente elevata Mi piace molto questa cover nel complesso Ringrazio ancora Orzili per averci mandato questa cover da recensire Fatemi sapere cosa ne pensate Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hightech Grazie a tutti